Mi sono cercato di comissione di celebrazione di Anna Nazionale per aiutare a organizzare le competenze di poeta di patria e vengo qui a organizzare varie spiega a capo di Fort Saltman e è anche qui che abbiamo fatto un luogo di squadra di marzo benedero. Mirando che il 2018 è un anno di pappiamento e che voglio stimolare il buon uso del nostro idioma materno la comissione di 6DN ha deciso che il tema di un anno di un anno di pappiamento e di un anno di terra. È un anno per noi nel Museo Histori di Aruba di cercare di Anna Nazionale per formare parte della organizzazione per questo evento è bello, per dare un'opportunità per la inspirazione e la creatività nel nostro poeta di Aruba. Per noi come un museo, il storico è molto importante per preservare la nostra herenza culturale per assinare per educare la tua gente toccando il valore della nostra storia. Per esempio, l'anno qui è forte che si accompli su 220 anni e vogliono dare il torno che si accompli 150 anni. Nel edificio è un antico, però con un'informazione e storia valioso toccante la formazione del nostro capitale, ora è stata. Però la nostra storia non è solamente basare in quello che noi formiamo, ma anche basare in una storia oral che è una parte sumamente importante di nostra cultura. È buonissima di un evento in maniera poeta di patria che è donata la tua persona e l'opportunità per expresare un'emozione, sentimento e stato di animo per mezzo di un poema. Che è un poema? Un poema è un texto poetico che consiste in una storia di una storia di un poema. Un scrittore che scrive un poema non si chiama un poeta? Un poeta. La maggiori viaja un poeta non conta una storia di un poema, ma è stata. Per expresare la sua emozione. Ora di declamare un poema, il poeta obviaja su uso di tre cose. Su linguaggio corporale, è la lingua con il sistema, 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 e idea tapa il poeta per traspasare il suo sentimento nel pubblico.